buongiorno ragazzi bentornati e bentrovati sul canale di ienti io sono roberto oggi voglio provare l'aggiornamento della dji fly 148 l'ho scaricata ieri sera sul telefono quindi vi voglio vedere un po come si comporta la precedente mi ha dato qualche piccolo problema però niente di preoccupante ho risolvuto qualche codice brevemente allo stabilizzatore poi mi sono informato insomma credo che non sia niente di preoccupante però adesso è uscito questo nuovo aggiornamento da 148 e la voglio provare insieme a voi qui sul canale quindi vi invito ad iscrivervi non costa nulla è soltanto un modo per stare insieme e se vi piace anche questa attività mettete un like e iscrivervi iscrivervi vi aspetto anche di questo tempo ciao a dopo ci vediamo con la sperimentazione iscriviti al canale 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 canale iscriviti al canale iscriviti al canale iscriviti al canale connessione debole vabbè comunque a parte questo nessun problema rilevato sono alla seconda batteria e sto facendo appunto l'aggiornamento adesso come finisce riprendiamo il volo 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 il volo